Un'apertura straordinaria quella di domenica 9 ottobre del Museo di Storia Naturale e del Museo del Territorio di Foggia. Anche quest'anno il Polo Bibliomuseale di Foggia della Regione Puglia per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo ha organizzato sin dalla sua prima edizione nel 2013 dall'Associazione Famiglie al Museo una promozione per facilitare l'incontro tra le famiglie e i numerosi luoghi espositivi del paese. Diversi ma uguali è il tema di questa edizione, un invito a valorizzare la diversità come strumento indispensabile dell'inclusione sociale. Diversi ma uguali è il tema. Si comincia con le visite libere al Museo di Storia Naturale in via Giuseppe di Vittorio 31 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18. A partire dalle 18 poi e sino alle 21 alla Museo del Territorio spazio alle visite guidate ad un laboratorio didattico dal titolo Ti accolgo con un fiore. Al termine della visita guidata infatti gli ospiti realizzeranno il fiore della vita con l'antica tecnica del mosaico, tra origine dalla leggenda dell'eroe greco Diomede, questo laboratorio, reduce dalla guerra di Troia infatti l'eroe approdò sulle nostre coste. Fu così accolto dal re Dauno che gli promise in sposa sua figlia in cambio della fondazione di nuove città. Dalle 10 e 30 alle 11 e 30 poi, attività di approfondimento la domenica organizzata in collaborazione con l'ente nazionale Sordi sezione di Foggia, una ricca biodiversità. Sarà presente anche un interprete l'IS per i visitatori non udenti. L'alle 17 e 30 alle 19 e 30, sempre al Museo di Storia Naturale, si terrà invece il laboratorio diversi ma uguali nel regno animale, ma anche questo aperto all'intera famiglia.